Allora appartamento trilocale terzo piano con ascensore completamente ristrutturato questa è la zona giorno soggiorno con un ripostiglio in fondo per la lavatrice come vedete è stato ristrutturato in modo impeccabile impianti nuovi la zona cucina quindi con il suo balcone alla doppia esposizione quindi è molto aperto camera da letto con balcone impianto di riscaldamento bizzona doccia con cromoterapia completamente nuovo con doppio ravello molto 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 bello inoltre dal soggiorno si accede alla cameretta possibilità di averlo anche con box auto e cantina per informazioni chiamateci